Salve, io sono di nuovo qui, sono sempre Antonio, e adesso vi parlerò della cosa importantissima, abbiamo parlato tutto sul vino, sulla sua storia, sui sapori, sulla fermentazione e tutto quanto, adesso ce lo dobbiamo bere questo vino. Insomma, presa la bottiglia di vino, comprata, ce la portiamo a casa e ci sono delle regole fondamentali. La prima cosa che bisogna avere è il cavatappi ed è questo. Questo è il cavatappi professionale, la leva, la spirale, il coltellino. Prendiamo il coltellino, lo apriamo e facciamo un giro, così, un altro giro, poi facciamo un taglio così. Il taglio deve essere importante, non ci devono stare sbavature qui. Importante, nella capsula ci sono due forellini, quei forellini sono importanti perché il vino deve respirare, il vino respira attraverso il tappo, quindi è importante ne conservare il vino, che non ci sia nulla intorno al vino che, se io metto in cantina questo vino e ci metto una danica di benzina, il vino, la benzina mi va a finire nel vino, quindi deve essere pulito, non va tenuto a temperatura costante, non ci devono stare sbalzi di temperatura. Quindi, ritornando ai fori, è importante poi fare questa operazione. Una volta tolto il tappo, bisogna togliere questo perché qui si annidano delle polveri e queste polveri, se io non le pulisco, mi vanno a finire nel bicchiere, nel contenuto e sento un odore sgradevole, un sentore sgradevole, che non è il vino ma è la polvere che si è annidata e le polveri possono essere di diverse specie. Poi dopo che facciamo? Prendo la spirale, il verme, anche chiamato, introduco qui al centro del tappo e comincio a girare. Questo è il rumore tipico del tappo. La cosa importante è che non bisogna arrivare fino in fondo per non mandare i truccioli del sughero nel vino, nel contenuto. Quindi questa qui ha due tacche, una e due. Questa qui in basso, la più vicina, la metteremo qui e teniamo questa, la posizione è questa, con la mano sinistra stringiamo e con questa tiriamo su, fino a che riusciamo. Poi andiamo sulla seconda tacca, prendiamo così, teniamo la bottiglia ferma senza fare movimenti strani, se un vino poi è invecchiato è meglio non scuoterlo molto e facciamo questo lavoro qui. non tocchiamolo con le mani e dobbiamo sentire il sapore del vino qui, non ci devono stare altri odori. Da qui possiamo già definire se il vino ha avuto dei difetti, in questo caso il tappo, che è un fungo che si annita nella corteccia da sughero, quindi sta proprio all'origine il problema. In questo caso abbiamo un vino pulito, profuma, si deve sentire il vino, noi ci devono sentire altri difetti. È un sapore acre, pungente, qui non c'è, il tappo poi viene tolto, non toccato mai con le mani ma sempre con il tovagliolo e poggiato sul tovagliolo. Qui velocemente facciamo un'altra pulizia intorno alla bottiglia, poi prendiamo la bottiglia in questa posizione. Questo perché oggi non ci sono più, perché una volta le etichette si staccavano facilmente, quando io prendo la bottiglia così mi si stacca l'etichetta e il rischio di cadere. E poi anche un'operazione anche per non far cadere la goccia. Allora io prendo la bottiglia in questo modo, tovagliolo, torciolo sulla mano sinistra e verso il vino. E faccio questo lavoro, questa mezza rotazione e salvo la goccia, non mi va giù. Comunque se non riuscite a fare questo lavoro noi qui in Enoteca abbiamo anche i salvagocce, quindi io vi consiglio di provare, poi comunque voi intanto compratevi il salvagocce così non roviniamo la tovaglia, non sporchiamo. E qui già abbiamo il contenuto in questo bicchiere. Sa di vino, ha il sapore del vino, come la nostra endoteca, sapore di vino. Ha un bel colore, già lo definiamo in aspetto, dal colore, dall'intensità, la definizione del colore. Poi abbiamo a livello olfattivo, cioè l'impatto. Senza agitare il bicchiere, lo portiamo così al naso, sentiamo già l'impatto olfattivo. L'impatto olfattivo ovviamente, se io prendo ad esempio un acetone, appena lo parlo, grande impatto olfattivo, però è scarsamente qualitativo, cioè non ha qualità. Quindi già abbiamo un grande vino. Il suo colore, la definizione, è pulito, non ci sono residui. Con questo ho finito, io vi ringrazio, spero che sia, che io sia stato bravo nello spiegarvi il tutto questo, che sono delle regole fondamentali, quindi dal cavatappi all'apertura del vino, la pulizia dopo il torto alla cattua. Perfetto. Io con questo vi ringrazio e ci rivedremo la prossima volta. Quindi ci saranno altri argomenti. Arrivederci, sempre qui da Sapore di Vino, su YouTube, lo stesso canale. Grazie a tutti.